Ci ritroviamo in questo appuntamento consueto, che è appunto l'appuntamento momento conviviale, dove riconosciamo anche quello che è l'impegno delle prologo e l'impegno che attuano sui territori per animarlo, per promuoverlo e valorizzarlo. Unitamente all'impegno delle prologo ovviamente si riconosce anche l'impegno degli enti pubblici e privati che sostengono quotidianamente e costantemente le azioni e i programmi delle prologo. Quindi un momento conviviale, fuori dagli schemi formali dei consigli e dell'Assemblea, un momento di scambio di auguri, ma anche un momento per condividere idee e condividere anche i piani per il prossimo anno che sta per entrare. Quindi gli auguri di buone feste, di buon anno a tutti i soci, a tutte le prologo, a tutti i partecipanti, con l'auspicio che l'Umbli Provinciale possa incentivare sempre di più, promuovere sempre di più le azioni delle prologhe, che possano coinvolgere tutti gli attori territoriali dei luoghi al fine di elaborare un programma unitario, al fine di determinare quello che è un forte impatto sociale ed economico sui territori. Grazie!